eccoci qua ragazzi, riproviamoci ci mettiamo in attività veramente ok stavolta ho l'ascia quindi vado anche un po' a me passa che stiamo in gruppo stavolta non stavolta più divisi scusa per l'accettata in testa è troppo bello vedere il bianco c'è che mi ha fatto la mia arma io ho ancora il mio fucile predo della prima ma che cazzo stai facendo la gatti prima ora cosa che è passato di fianco chi è che è morto dai ce l'ho io ma sono flashato ma sei morto bella cosa non ne arrivi a entrare va si è meglio siamo un più bello figura ma venite morto eh voglio la sua molotov come minimo tank 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 eh per questo voglio la sua molotov mo dobbiamo sparargli a raffica e adesso vado timado lento perchè ha 39 di vita fa un culo perchè ho visto il tank per trasportarsi anch'io ma quando ci metterà la beta di questa tuttissima mappa ma una volta non la cava ma mi fa qualche scatto ogni tanto ma la macchina ora ti io ora ti io ora ti io procediamo sperando di non lagare più piuttosto però mettete in attiva chi se si è visto però non mi non si oppure che ci sono smoker che ha ucciso dina no ha preso me tranquillo mi muovete? sto arrivando a parte che io mi muovo te trasportandoli intanto non posso come ti sono dato pulito ci hai avuto che cazzo mi chiami bene ma è yao e nab ma che cazzo non c'era sto zombie ma non c'era sto zombie come ci vuoi? quando stavi? ultimo momento è cazzo mi animato smoker si ma perchè vedo lo smoker volare? anche tu ok libriamo coach che magari ci aiuta anche un po' io quasi quasi metto veramente inattivo ok dai corriamo avanti almeno i botti non taggiano don't shoot the car don't shoot the car e l'ho così tanto che quando spara un colpo con la mitoglietta sento che ne spara 10 ok andiamo raga puoi notare che coach segue te quindi ti muovi o ti muovi o sono sempre io andami da curare a semi mattina attivo seguo voi e di conseguenza coach segue voi esatto vado? guarda torna e palante per passo di me aiutato dove sei? dietro la macchina e ho perso un altro 80 di vita così e non basta mi metto veramente inattivo non posso coperti sempre il culo non è veramente finami in grande finiamo in merda complimenti a tutti l'ho ucciso da due ore in lagga ieri sera quando fate le campagne con voi scattavo ogni tanto ma giusto 2 3 volta scattato tutta la campagna beh tu hai vista è obbio si andando la zona windows 7 o xp tanto è giusto più difficile ho io visto uno smoke run qua ho preso tiro anche gli smoke quando sono inattivo vabbè qualcuno mi può dare le pillole o cose così e sono tutti quanti inattivi nessuna niente è stato bene no 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 di pp io non avevo avrò lo sato vediamo dai rocci al titanella segui che ho la spinta spesa spesa cazzo nave di vita io io ho fatto giusto 9 kg e le ho contate io li ho sempre andare dritti eh Andre ma se va se continuatamente del po' cazzo 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 muore oh mio dio a me a me se stanno cazzo cazzo cosa la pala bomba tubo bomba no? buttalo giù che almeno lo seguono seguono cosa mi vengono addosso a me c'è mi hanno buttato mi ha buttato la terra l'altro bomba lo sai cazzo ci fa predatore no me lo spiegate ti salva il mio alter ego boh vorrei sapere un mio amico è entrato così a random vabbè non so chi è ma predatore predatore mentre io sarò in attivo ok ragazzi abbiamo finito la seconda missione non si sa come e ci vediamo la terza memorial e ci vediamo bye bye alla prossima